Coverciano 2012, AIC sempre perfettamente organizzata per questo ritiro precampionato. Sì, ormai abbiamo l'esperienza giusta per fare in modo che ogni cosa sia al posto giusto e che tutto quanto fili così come nei programmi. Anche quest'anno è notevole lo sforzo organizzativo dell'AIC nel gestire 100 calciatori tra le due sedi di allenamento. Sì, veramente incomiabile lo sforzo dell'AIC. Devo dire che qui a Coverciano l'aiuto primario, se non assoluto, di Nico Bosio e di Fidenzio Nardello consentono che questa organizzazione vada avanti tranquilla, senza alcuna sbavatura e direi con una perfezione quasi, che ogni società di calcio a mio avviso dovrebbe invidiare. Rispetto agli altri anni, noto qualcosa di diverso tra i giocatori presenti, vista anche tutte le novità che stanno circondando il calcio in questo periodo? Beh, io direi grandi diversità non ce ne sono, i ragazzi sono sempre gli stessi, qui noi abbiamo tra virgolette l'onere di sostenerli perché attraverso un momento particolare della loro carriera, però direi che le loro preoccupazioni sono sempre le stesse, le nostre preoccupazioni sono sempre le stesse, cerchiamo di fare in modo che queste preoccupazioni svaniscano o quantomeno non ci si pensi in maniera continua e siamo convinti di riuscirci, i ragazzi sono sereni, lavorano con profitto, frequentano l'aula per le lezioni con grande interesse, per cui ritengo che sia comunque per loro un'esperienza estremamente positiva. Il programma delle giornate è molto intenso, come si svolge la giornata tipo qui a Coverciano? Beh, devo dire che siamo stati un po' cattivelli, ovvero sono stato un po' cattivello nella struttura della giornata tipo perché purtroppo c'è necessità di stare in aula per il tempo corrente, a che il corso da loro frequentato, che poi li abiliterà allenatori in Europa, dilettanti ovviamente, però esige che ci sia questa frequenza per cui loro hanno la sveglia dalle 7 alle 7.20 fanno colazione, alle 8 sono in campo per lavorare con una temperatura più consona, alle 10.30 vanno in aula, 12.30 pranzo, riposo o cure per chi ha qualche piccolo acciacco fino alle 15, 15.30 ancora in aula, fino alle 17.30, 18 in campo fino all'ora di cena che si svolge alle 20.30, alle 21.15 abbiamo il supplemento in aula, 21.15, 22.15, qualche volta 22.45 per un'ora e mezza anziché un'ora. È abbastanza faticosa la giornata, tant'è che nella prima settimana noi recuperavamo ancora un'ora di lezione portandoli in aula dalle 14.30, i ragazzi mi hanno chiesto che forse era giusto farli riposare un'ora in più e così abbiamo tentato poi di recuperare eliminando qualche allenamento perché le ore di lezione devono essere svolte altrimenti non si ha possibilità di sostenere gli esami finali. Tutti attraversano un momento particolare della carriera in cui forse è più facile essere poco motivati che motivati. Come gestite questo aspetto negli allenamenti ma ritengo anche nell'aula? Dappertutto, tutto quanto lo staff è impegnato per fare sì che le motivazioni siano sempre presenti ma io direi che le motivazioni loro le trovano all'interno più che trovarle in noi. Noi siamo di contributo fondamentale direi, però ecco loro capiscono qual è il momento e anche attraverso la collaborazione che hanno con lo staff e direi anche in particolar modo con la dottoressa Isabella Croci che è la psicopedagogista che fa lezione psicologia di conseguenza anche attraverso i colloqui con lei e i suggerimenti da lei svolti sicuramente riescono poi ad avere queste motivazioni, a tirarle fuori e devo dire che anche lo staff contribuisce in maniera abbastanza congrua nel senso che quando si rende conto che c'è bisogno intervenire sul singolo o su più di qualcuno lo fa con grande, direi, delicatezza e fino ad oggi non possiamo assolutamente armentarci. Mi sembra che le cose vadano per il verso giusto e che loro vivano questo momento senza grossi affanni. È molto intenso anche il programma degli amichevoli. Che intensità hanno dato i ragazzi in campo in queste occasioni? Direi che rispetto all'ultimo anno qualcosa è cambiato e io ritengo che qualcosa sia cambiato in virtù del fatto che dovendo recuperare ora in aula si è tolto l'allenamento del mattino prima della partita amichevole. Li ho visti più vivi al di là dei risultati ma penso che questo non farli lavorare la mattina della partita amichevole di essere più vivaci in campo e devo dire che mi hanno favorevolmente impressionato. Quindi è sempre l'atteggiamento mentale che fa la differenza a prescindere di fatto dall'anagrafe. Quelli avanti in età e che probabilmente hanno deciso di ultimare la carriera di calciatore per iniziare quella futura di allenatore riescono a dare il meglio e riescono a dare un rendimento durante le gare direi esemplare. A me sono piaciuti veramente tanto. 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 Grazie a tutti.